Una prima verità definitiva sulla vicenda Tercas per quello che riguarda il processo delle azioni è stata scritta. Si, vede Giovannozzi, io conosco Di Matteo da due o tre anni. Posso dire che è una personalità veramente molto particolare. È un vero genio della finanza, ma è una persona leale e onesta. Posso dire senza nessun tipo di problema che lui ha operato sempre con lealtà e correttezza. È una sentenza che lascia poco spazio alla fantasia? Una assoluzione piena? Sì, è stato assolto con formula piena dal Tribunale di Teramo. Il Tribunale di Teramo ha accertato l'insussistenza di qualsiasi ipotesi di reato. La Corte di Appello ha confermato la sentenza del Tribunale. Stiamo parlando, lo ripetiamo, delle azioni, del processo nel quale l'accusa era quella di aver indotto subalterni a vendere azioni che poi azioni non erano. Il Tribunale di Teramo, ripeto, ha accertato in pochi mesi, compiendo un'istruttoria molto articolata e complessa, che si trattavano di azioni della banca che poi la banca ricomprava dai propri azionisti. Quindi Di Matteo, né gli altri dirigenti, non ha truffato nessun risparmiatore. I problemi che si sono successivamente verificati sono dipesi dal commissariamento. Quindi la banca non ha più riacquistato le azioni. Adesso è il periodo del redderazionem, cioè adesso parte e scatta quella che è la seconda fase di questa vicenda. Tutti coloro che hanno testimoniato in un certo modo, tutti coloro che hanno detto delle cose, tutti coloro che hanno accusato, cosa si farà? Ma io di questo adesso non posso dire nulla. Vedremo tutte le testimonianze che ci sono state e valuteremo con serenità, insieme al dottor Di Matteo, insieme anche alla collega, all'avvocato Di Matteo, vedremo il da farsi. Perché il pericolo è quello della falsa testimonianza, della calugna, della diffamazione? Assolutamente sì. Io lo dico dal 2018. Teramo con Di Matteo ha perso una grande personalità. Il territorio ha perso una grandissima occasione.